Allora, vediamo la cartella clinica del paziente. Eccolo qui. Una creatura del regno di Cosai. Eccoti qua, sei tu? Sì. Per questa operazione sono stato scelto io, che sono il dottore più bravo, il chirurgo, più bravo dell'universo. E sono stato proprio convocato per una creatura del regno di Cosai. Perché le creature del regno di Cosai meritano il meglio del meglio del meglio. E quindi, per questa operazione molto molto importante, sono stato convocato io, che appunto, non per vantarmi, ma perché così, oggettivamente, sono stato convocato il miglior chirurgo dell'universo. Esatto. E perché questa è un'operazione molto molto importante, molto particolare, che pochi, pochissimi chirurghi in tutto il mondo e in tutto l'universo sanno fare. Quindi, veramente, si contano sulle dita di una mano delle creature del pianeta Sorgheum. Quindi, veramente, molto molto pochi. Allora. Vediamo pochi sei. Ok. Va benissimo. Non c'è problema. Io ti saprò trattare al meglio e soprattutto operarti, che poi dopo sarei un'altra persona totalmente. Andremo a prelevare, come già sai. Ti preleverò tutti i brutti pensieri e le tue paure, nonché tutte le tue ansie, perché è da questi brutti pensieri che tu hai ansia, ti autoprovochi ansia praticamente con questi brutti pensieri. E adesso, appunto, io andrò a prelevarteli. E poi tu non avrai più brutti pensieri, più paura, perché appunto io andrò a toglierteli dalla testa proprio. E' un'altra cosa inizio. E sì. E tu, non ti preoccupare. Non è doloroso. Allora. Io direi di iniziare subito. Prima si fa meglio si sta, giusto? Perfetto Ma prima cosa mi disinfetto le mani Anche se poi andrò ad indossare i guanti Però per una creatura del regno di cosai Questo è d'altro Tu stai pure in questa posizione Che è perfetta, ti hanno già sistemato sul lettino Bene Stai pure così, non ti preoccupare Non c'è bisogno dell'anestesia Perché appunto non è dolorosa E poi è giusto che tu veda Tutto ciò che io andrò a fare Perché questo è molto importante per l'operazione Perché tu ti devi rendere conto Di tutto ciò che sta succedendo E di tutti i pensieri soprattutto Che andremo a rimuovere Dovrei sapere perfettamente Quale pensiero sto rimuovendo In quell'istante Perfetto 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 ecco fatto siamo pronti per procedere come pinzetta ho scelto questa che una qualsiasi creatura direbbe ma non mi sembra una pinzetta chirurgica professionale e invece è stata scelta proprio per te creatura so che tu apprezzerai questo motivo floreale so che hai le creature del regno di Gossai crediscono molto le piante, i fiori, la natura quindi ho scelto proprio appositamente per te non è molto rumorosa ma è molto efficace l'unica cosa che ti chiedo adesso creatura del regno di Gossai è di cercare di aprire la tua mente di essere il più possibile rilassato lo so che essere rilassato è una parola ed è molto complicato ma cerca solo di aprire la tua mente il più possibile il tuo cervello cerca di immaginare che si sta aprendo come se una porta ci fosse una porta nel tuo cervello e tu adesso la stai aprendo la stai aprendo pian piano pian piano così io riesco a inserire le mie pinzette floreali all'interno di quella porta anche se è aperta poco 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 non importa io ce la faccio non ti preoccupare se risciaprirà di più ancora meglio però mi basta poco 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 ecco io pian piano preleverò tutti i tuoi pensieri brutti negativi le tue paure le tue ansie e poi le farò sparire nel vuoto cosmico ma quello a te non interessa l'importante è che io le prelevo d'accordo? farò in modo che non tocchino nessun'altra creatura di nessun regno cui pensieri dovranno scomparire nel nulla cosmico ok riesci ad aprire un pochino a pochino prova vediamo vedo vedo qualcosa brava creatura continua così lo vedo quel bordone che hai lì apri quel bordone è una bella porta comunque hai scelto di immaginare dov'era una bella porta mi piace vai è molto originale ok pian piano aprila molto bene molto molto bene io sopevo che le creature del regno di cos'è sono molto brave si mettono sempre like ai video e li condividono e sono tutte iscritte ok bene procedo allora mi raccomando tienila aperta anche così socchiusa va bene non ti preoccupare l'importante è che non la chiudi altrimenti l'operazione non si può fare è molto importante che tu la tenga aperta la tenga aperta la mente si ok ma io so che tu sei in grado di farlo creatura ne sono certo ok vedo qualcosa eh io vado la prendo il pensiero brutto vediamo cos'è ne ho preso uno vediamo cos'è oh che brutto pensiero molto brutto questo hai paura di qualche malattia fisica questo lo faccio sparire io non preoccuparti creatura non lo avrai più questo pensiero non ci devi pensare sicuramente non adesso perché è sparito vediamo quale altro brutto pensiero di asilo di angoscia vediamo eh eh ghiagnosi di tumore è proprio questa paura delle malattie no no adesso tiriamo via tutto tiriamo via tutto 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 questi brutti brutti pensieri ne hai tantissimi adesso riesco a vederli in modo molto chiaro perché stai aprendo sempre di più la porta rimanere solo creatura no via questo brutto pensiero anche la malattia anche la malattia psicologica via beh sicuramente adesso ti sto togliendo un sacco di cose quindi malattia psicologica già la stiamo togliendo via 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 questo è gigante che cos'è? non riuscire più a fidarmi ed innamorarmi più no questo è davvero un brutto brutto pensiero vi fa tolto anzi guarda lo strappo pure e finisce nel buco cosmico il buco cosmico è tipo un triangolo delle bermuda come dite voi sulla terra in cui però le cose spariscono e non spariscono soltanto cessano di esistere in tutte le loro forme e non possono mai più tornare sono come panditi dall'universo si proprio si disintegrano e sono finiti intanto questi sono finiti tutti lì questo lo è finito a prenderli quindi immaginate già era stato strappato in mille pezzi e in più anche ogni micro pezzettino è scomparso per sempre ne è ancora un sacco quindi io direi di procedere hai paura di non realizzare i tuoi obiettivi non più non hai più questa paura ormai foto cosmico questo è davvero un bruttissimo pensiero creatura come hai potuto pensare una cosa del genere vabbè io non ti giudico però però d'ora in poi non avrai più questo brutto pensiero vorresti scomparire ed essere dimenticata creatura no no anche questo verrà strappato eccolo eccolo l'ho visto proprio disintegrarsi nel vuoto cosmico quindi bye bye brutto pensiero andiamo ai prossimi brutti pensieri ce ne sono ancora un bel po' creatura non va bene così ma vedrai che adesso andrà tutto molto 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 meglio e questo ma cos'è un papiro quanta roba c'è qua che brutto pensiero ha questo andiamo a leggere lunghissimo paura del futuro si se la terra e le persone sono così adesso immagino in futuro effettivamente però in realtà è un pensiero negativo perché tu pensi se adesso è così sarà sempre peggio perché dovrebbe essere peggio non meglio perché non pensare essere speranzosi 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 senti questa zeta così speranzosi perché non essere speranzosi perché per forza deve andare tutto male se pensiamo che andrà tutto male andrà tutto male per forza perché più ci pensiamo e più facciamo accadere le cose invece se pensiamo che andrà meglio che andrà sempre meglio che magari abbiamo già toccato il fondo possiamo soltanto migliorare perché non pensare così perché non apprezzare le piccole cose e strappiamo anche questo perché ormai sappiamo che le cose andranno soltanto meglio perché più pensiamo che andranno meglio più andranno meglio evitati di me io sono il miglior chirurgo di tutto l'universo non posso sbagliarmi ne hai tipo circa 6-7 ancora però siamo stati bravi a fallire nella dieta lo so che la dieta ci sono tante tentazioni che potrebbero farci fallire ma in realtà fallire non esiste non esiste fallire perché quando si cade ci si può sempre rialzare quindi quando si fallisce tra virgolette si può sempre riprendere in mano la situazione e dare quel plot twist quel colpo di scena che nessuno si aspetta quindi secondo me fallire non esiste perché appunto quando si fallisce si cade ci si può rialzare pensoci creatura quindi foto cosmico vediamo cosa c'è qua poi ce ne sono che sono molto nascosti ma io li ho visti non mi scappano ce ne sono tanti qua dietro visto che ce ne sono nascosti poi ce ne sono anche un po' lì a sinistra stai aprendo bene la porta perché hai visto che ti puoi fidare di me e hai visto che sta funzionando ti senti molto più nella mente più pulita da questi brutti pensieri benissimo benissimo è qui è qui quando ti ho tolto quella cosa che tu volevi essere dimenticata sopraggiunge una nuova paura quello di essere dimenticata la mente la mente umana è così essere dimenticata creatura nel cuore di chi vi ama non sarete mai dimenticati tu lo sai tu lo sai che creatura che hai ancora nel tuo cuore persone che non ci sono più e quindi come è successo a te così succederà così a qualcun altro ma questo questo andrà nel vuoto cosmico ok andiamo a vedere quelli a sinistra e poi andrò a cercare quelli che si sono nascosti proprio nelle profondità nelle profondità della tua mente ok oh che brutta paura quella di soffocare veramente brutta è vera ma adesso non ce l'hai più perché ce l'ho io l'ho preso e lo butto nel vuoto cosmico quindi sparita un'altra queste rimpianti del passato 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 cosmico sparito non c'è più non ci pensare più perché non esiste tutto questo pensiero quindi non ci puoi pensare più non sapere controllare la rabbia credo che faccia parte dei fallimenti questo sono un discorso dei fallimenti quindi vuoto cosmico andato già adesso bisogna andare a cercare quelli nascosti non ti farò male te lo prometto apri più che puoi la mente la porta anche se vedo che è già abbastanza aperta ma bisogna spalancarla proprio totalmente ti senti in grado di farlo creatura si è così tu ti senti in grado di farlo lo vedo ci stai riuscendo creatura vedo ho visto tutto bravissima creatura continua così continua così creatura allora ne vedo ne vedo due solo due vediamo si sono due riesco a prenderli ok si due sono due ne ho preso uno ok allora perdere l'umanità creatura hai paura di perdere l'umanità no non può succedere questo un umano che perde l'umanità come potrebbe mai accadere una cosa del genere no non è possibile io ho studiato tutti i libri che esistono nell'universo e non ho mai sentito che un umano possa perdere l'umanità non è possibile non è proprio scientificamente e come si può non so neanche come dirlo non è possibile questa cosa quindi è proprio un pensiero una fantasia alla fine nemmeno nei film di fantascienza può succedere una cosa del genere quindi vuoto cosi l'ultimo pensiero vediamo cos'è non lo so perché è lì nascosto lì dietro che probabilmente è tipo un vecchia non lo so non so di cosa si tratti lo prendo allora ok aiuto mi sta sfuggendo eccolo l'ho preso l'ho preso era incastrato si scivolava ma io l'ho preso oh creatura questa è una cosa adesso capisco perché era lì incastrato e non voleva proprio venirne fuori non voleva uscire questo pensiero chissà da quanto tempo ce l'hai da quanto tempo ti fa soffrire e mi dispiace tantissimo ma adesso adesso non c'è più no non c'è più l'ho preso io è qui e adesso lo strappiamo insieme così vedi che lo strappo e finisce nel vuoto cosmico quindi ciao ciao proprio non essere mai abbastanza creatura ma tu sei abbastanza se la parte che sei una creatura ti regno di cose sai quindi quindi già già sei abbastanza così cioè tu sei tu cioè sei importante e poi tu sei abbastanza creatura tu sei abbastanza tu sei abbastanza tu sei abbastanza tu sei abbastanza creatura fissati di me io sento l'ho fetta il tuo cervello i tuoi pensieri adesso sono completamente puliti e sei libera creatura e sei abbastanza e nessuno ti dimenticherà perché tu sei abbastanza e sei molto importante sei importante per il regno di cose sai e sei importante anche per tante persone nel pianeta terra si tu sei abbastanza ma soprattutto tu sei abbastanza per te stessa creatura quella è la cosa più importante di tutte nel regno di cose poi ci sono tante persone che la pensano come te pensano di non essere abbastanza ma loro lo sono lo sono tutti 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 abbastanza e importanti anche ogni singola creatura lo è perché è così è unica però è simile l'una all'altra per tanti aspetti anche se le creature del regno di cose si sentono magari sole e diverse in realtà hanno tutte qualcosa che le accomuna però diverse una per l'altra quindi adesso questa la andiamo a strappare insieme guarda la piego e la strappo in mille pezzi e guarda dove finisce nel vuoto cosmico bravissimo un pezzettino voleva restare attaccato al dito ma è caduto nel fotocosme quindi adesso basta brutti pensieri adesso la tua mente è libera è leggera io la vedo è bellissima è tutta clitterata io non so vedo un luccichio particolare che prima non aveva prima era tipo grigia fussata non lo so brutta veramente demodì devo dire ma non siamo a dire fuori baciare e comunque adesso si è molto molto luminosa mi piace molto ti senti più leggera creatura questo è molto importante allora io direi che adesso chiudi pian piano la porta così puoi rilassarti e attormentarti un buon sonno ti farà bene ma io so che questa sera dormirei bene e ogni volta che ne avrai bisogno potrei rivivere questo momento e potrai sentire la tua mente leggera da tutti questi brutti pensieri e dalle tue paure e poi anche se ne avrai bisogno potrei rioperarti magari hai dei nuovi brutti pensieri questi no di sicuro perché ormai non esistono più allora prenderai di nuovo appuntamento io verrò ad operarti senza problemi hai visto ce l'abbiamo fatta tranquillamente perché come ho già detto le creature del regno di cosai sono bravissime io ti auguro buonanotte buon relax se l'operazione ti è piaciuta lasciami un like e anche un commento mi farebbe molto piacere saperlo anche se so di essere già il che ho più bravo dell'universo però mi fa sempre piacere sapere che le creature terreni di cosai lo confermino di tutto ciò ti saluto ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura